Hanno percepito indebitamente risorse pubbliche stanziate per fronteggiare l'emergenza Covid, costituendo ben 20 società legate a persone gravate da precedenti giudiziarie e omettendo il pagamento delle tasse. Per questo la Guardia di Finanza di Bologna ha dato esecuzioni ad un'ordinanza di misure cautelari personali a carico di due imprenditori e al sequestro preventivo di beni per un valore di 400.000 euro. I due indagati, ora interdetti temporaneamente dell'attività professionale, in particolare si sono avvalsi di una società artatamente costituita per fornire mano d'opera impiegata presso cantieri navali operanti nei porti di Ancone e Taranto e al contempo di rottare gli ingenti ricavi ottenuti su conti correnti radicati a Praga. Il trasferimento di fondi all'estero ha così permesso di eludere ogni forma di riscossione equattiva che avrebbe potuto adottare l'erario in ragione dei significativi debiti fiscali accumulati dall'impresa. I pregiudicati a capo delle società hanno amministrato anche di fatto le stesse percependo indebitamente i famosi ristori previsti nel 2021 per le aziende fermate dalla pandemia e previste nei decreti sostegni, pari a circa 50.000 euro stanziati nel corso dell'emergenza e prontamente prelevati dai due indagati per fini personali.